Don Marco a tutti ragazzi, Don Marco e bentornati in streaming! Cos'è sto spam di Don Marco? Nooo, è inutile che vi usate il Don Marco contro il me, non funziona! E niente, questa live viene fatta il giorno stesso in cui è uscito il video con D'Larza e di conseguenza Don Marco sarà praticamente, non so, l'ospite speciale. Prima o poi dovremo cercare un Don Marco in una qualche cappella in giro per l'Italia, invitarlo in streaming e dire, vieni, ecco, a voi Don Marco. Ma prima di iniziare vi ricordo che sarete Amazon Prime, potete abbonarvi gratis senza pagare un centesimo, cliccando sul tasto abbonati. O pagando 4,99, entrette a far parte della mia famiglia preferita, cioè la Felix Army e poi potrete spammare le mie bellissime emot. Ma noi, signori, non abbiamo soltanto Don Marco. Ci tiene compagnia, in questa live esiste un altro Don. Buonasera Don Maurizio! Io sarei un donno adesso. Non hai mai scelto di fare il voto? No, sinceramente no. Mannaggia. Anche tu vedi Sergio? Sì, sì, sì. Penso di essere diventato Andrea Bocelli, ma invece no. No, no, no. Ho ordinato dei led per ordinarla. Vi volevo dire di andarvi a iscrivervi al canale di Muccio Puccio. Muccio Puccio? Grande Muccio Puccio. Grandissimo Muccio Puccio. Allora ragazzi, vediamo una cosa... Meraviglioso. Gialla, rossa, viola... Il tasto, dai. È regg, è lgp. È detrust, l'ho visto. È trust, è trust, è trust. Cosa poteva mai essere? Senti, senti. Senti il tasto. Che bel suono, Mauri. Questo per il murmose della kex. Della kex? Come della kex? La kex. Perché come vedi, lì c'è scritto kex. Eh sì, kex. Da trust a kratz a kex. È collegato al computer. Ma ho ordinato una cosa su Amazon che metto qui, la foto che c'è, il cavalletto e poi il tablet scende di così. Oddio. Oddio, no, come quell'altro. Cosa ti ricorda, esatto? Mi ricorda il video del minchiofono, ecco cosa ti ricorda. Qui c'è la mia matta fotocamera, di cui lì c'è il... Di cui? Di cui lì c'è, di cui lì sotto c'è. Se no, ingombra. E poi c'è una lampada. Ci uccide con la luce, vediamo. Accesa. Ecco. Ecco, spenta. Ah no, era un'altra. Adesso è spenta. Era un'altra lampada. Finale solamente che una lampada accedere. Ma che cazzo! Allora. La musica! Eh sì, sì, sì. È lei! È proprio lei. Proprio l'ho riconosciuta al primo beat. Sono delle turtle bizzze. Ta-ta-ta-た-ta-terata-ta-ta. Non sento una parole quel che dice, sono troppo concentrato sulla musica. No, no, HDMI HDMI, che male Dell'Apple Watch mio Che flexata è questa? Apple Watch mio Ma quant'è l'arba c'ha questo? Questo flex alle scatole Madonna Voi siete poveri, non come lui Chi ha otto anni c'ha già l'Apple Watch E tutte le altre cose Apple C'è la bacchetta di Harry Potter Come sei simpatico Ridete in chat, perché non ridete? Faceva ridere Oggi vi farò vedere la mia camera Nonché nella postazione da gaming Questa è una porta Normalissima e bianca con gli adesivi di quando ero piccolo Quello è una porta, molto importante Questa è una porta Ah sì, Avengers Ma è importante Spider-Man, Ben 10 Fa parte anche quello degli Avengers Ma ti ricordi Ben 10 Benito Oh mio Dio Benito Ah no, Ben 10 Una perla per pochi Chi si ricorda di Ben 10 Benito Madonna quanto è chiuso sto case, Mauri È blindato GeForce 1080 Ti Cosa? Non ci credo Non ci credo Non ci credo No, 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 no Sì, in un case da train bear Va bene, dai Non ci credo neanche Se apre il case e me li mostra Falfalos ha messo una 1080 Ti Bellissimo Call of Duty 4 Come mai ce la volevo decorare come Serve da 1080 Ti Eh sì, 1080 Ti 9 per Call of Duty 4 Oggi vi mostrerò la mia console, la mia play, il joystick, i miei giochi Il joystick Il joystick Eh, raga, tengo anche, non so come si chiama, ah, Fortnite Oh, tengo Fortnite Allora, teniamo qui i nostri due joystick che Joystick? Teniamo Che uno è bianco, raga Teniamo Terra on check Eh sì, Terra on check Si sente proprio quanto sono stati conquistati dagli spagnoli in passato Riva Red Temptation Red Temptation, come l'ha chiamato? Red Temptation Island Mouse, HP, PC, HP Oddio Mario, io conosco sto computer Uguale, identico, l'aveva preso mio padre come computer secondario E c'ha un suo computer pieno di roba Ha detto, metti caso c'è qualcosa che bisogna avere subito un computer secondario del cazzo Aveva preso questo, che non mi ricordo nemmeno i componenti che ha Cioè, è presente, sono quelli non dissipati passivamente Ah, ho capito, ho capito Non è proprio dissipato Cioè, ti giuro, guardavo dei live su Twitch e i video su YouTube Dopo 20 minuti che guardavo qualcosa in 1080 Iniziava a scattare e a bruciare Eh, sì, ci spegneva di protezione È una roba assurda Questa qua è la mia postruzione da gaming temporale Perché proverò a fare dei miglioramenti Meno male Questa qua, vedete, è con Fortnite In video in GeForce Now Io voglio vedere se c'ha un video gameplay su quei computer Poi abbiamo le mie cuffie da gaming Abbiamo un altro controller PS4 modificato da gaming Gaming, controller da gaming Un controller PS4 come può non essere da gaming? Maori, la parola gaming ormai è un rafforzativo C'è capito, questo è un controller da gaming Eh, cosa ci potrei mai fare? Non lo so per da gaming, cazzo GeForce Now Ah, adesso ho capito Sembra che vada anche bene così Però va bene, Maori, va bene Era giusto per testare Però se usa GeForce Now ho capito tante cose Dunque Maori Maori Mi sa che proprio ha un problema Discord Vabbè, si usa l'altro servizio poco male Uè, Maori Mi sta ancora caricando in infinito comunque Ti sento molto più forte rispetto a prima Per qualche modo Eh, anche io sento te molto più forte Ok Hangouts Non c'è il tasto di qualche volume qua Su sto programma di Bello Su Hangouts non penso Non lo so Madonna, ti sento fortissimo GeForce Now è un programma, possiamo dire, di streaming di video Ok Che è esattamente come Google Steam Ve lo spiega meglio Maori È una piattaforma per streamare i giochi in diretta Ti sento ancora più forte, Maori Abbassa ancora un pochino Da solo si è alzato, sì Ah, ok Dicevo, è una piattaforma per giocare con i server della... Ma perché si alza da solo il microfono? Cristo Tenilo bad about Praticamente voi giocate sui server della... Della NVIDIA in questo caso E... Ma vi parli fortissimo, cosa sta succedendo? Cristo Acuccia, microfono, acuccia Allora parlo piano Dicevo, non so se è a pagamento Sì o no Però insomma funziona bene Lo usava anche Ahmed Fidatevi, visto che funziona su qualsiasi cosa Visto che in streaming basta avere una connessione buona Maori mi sta rompendo i timpani Andiamo sul diga, chat vocale Chat vocale di League of Legends Oh League of Legends best servizio Duco con Maori Maori Ecco, mi senti? Sì al posto E tu senti me? Mi senti Maori? Rick Io vedo che mi si attiva il microfono Rick Ah ecco C'è l'ho il boost to talk Ah ecco, c'è l'ho il boost to talk Mamma mia Mamma mia Ok 0906 2000 Mi senti più difficili E chiede una volontà più forte Con le 6 gemme smetterebbero tutti di esistere Mi basterebbe uno schio Oh Incredibile Maori Incredibile Hype a mille adesso Hype a mille Il 9 giugno ragazzi Ce l'avete il cazzo duro eh Sempre che non venga rimandato per il coronavirus Saluta Maori No, non si sente un cazzo Buonanotte ragazzi Bella Bella Maori È stato un dispiacere Buonanotte ragazzi